La verità è inadeguata. La politica ha immaginato i governi fantasma. Nell'elenco mancava quello dei sindaci e delle giunte fantasma, ma quest'ora si può immaginare. Sindaco e Giunta sono sulla carta i grandi nemici dei cittadini siracusani, diciamo della maggioranza, visto che il sindaco Pro Tempore Italia e i suoi prodi assessori sono stati eletti con i voti di pochi gruppi, dopo il tradimento dei sottomessi del centrodestra per colpire Ezechia Paolo Reale, che era stato dapprima tranquillizzato. Si fa per dire. E così si trasforma l'opposizione nel partito dell'odio. Ma ciò non è bastato. Una logica della chimica vuole che il somigliante sciolga altri assomiglianti. La città è abbandonata, ma questo non è una novità. Meglio dire allo sfascio. Strade e marciapiedi non esistono più. Siamo ritornati alle trazzere di un tempo. Gli allagamenti sono la norma paralizzando la vita della città nell'indifferenza di chi governa. La spazzatura e gli escrementi di cani e gatti hanno fatto il giro del mondo e sono diventati il luogo di Siracusa nel mondo. Peggio di così. Solo la scena terrificante immaginata nell'Apocalisse. Ma chi si potrebbe divertire in tale si fatta condizione? Nessuno è la risposta. Almeno si spera. Purtroppo tanto immobilismo ormai profuso ha sdoganato atteggiamenti di assoluta vergogna. Ogni giorno questa giunta ci sbatte sul muso il risultato di un fallimento ormai acclarato e senza scuto come fosse una vittoria. L'indifferenza, la pretesa impotenza, la mancanza di volontà di reagire, ecco a cosa siamo arrivati. Vero similmente un handicap è trattato con un'arroganza invece che ha aiutato dell'indifferenza della maggior parte degli occupanti del palazzo. Nemmeno le scuse sono offette per il disagio e l'umiliazione messa in atto. Nessuno dei governanti ha pensato di alzare i tacchi e chiedere di andar via. Questa è una situazione davvero mortificante per tutti e la domanda rimane che fino a fatto la gentilezza, l'accoglienza, la comprensione, l'empatia naturale che caratterizzava i siracusani? Nei, la comprensione.